buongiorno a tutti io sono stefano costa autore del romanzo il primo giorno d'autunno al mondo edito dal saggiatore è uscito circa un mese fa neanche un mese fa metà maggio è quello che si dice essere un esordio letterario il mio esordio letterario ringrazio prima di tutto gli amici della biblioteca san giorgio di pistoia martino baldi in primis logicamente per questo spazio assolutamente prezioso allora nel parlarvi del primo giorno d'autunno al mondo posso dirvi che è fondamentalmente un romanzo semplice è in fondo una fiaba divisa in tre parti è la stessa storia quasi la stessa storia vissuta da tre punti di vista differente logicamente l'incastro dalle tre parti rende la totalità del tutto narra della vita di un giovane uomo al termine della propria esistenza si chiama adriano è un uomo sposato ha due figlie ed è stato alle prese negli ultimi tempi con la vendita di una casa di famiglia e di alcuni terreni accanto a lui si sono mossi per anni mondi interi cioè uomini donne animali ma anche streghe diavoli ed ognuno di questi ognuno di questi personaggi è entrato comunque a far parte della solitudine libriano per dirvi qualcosa in più su cosa questo testo vorrei usare in questo momento in parte le parole anche del mio direttore editoriale poiché spesso ci si ritrova molto in ciò che dicono anche gli altri della nostra vita e un romanzo è una parte di essa mi disse il direttore editoriale del saggiatore un giorno questo è un testo sul respiro quasi sull'ultimo respiro di una persona o si intende di un personaggio ed è quasi come se leggendo queste pagine il lettore si trovasse sempre di fronte all'ultima cosa che il personaggio sta per fare questo è verissimo io ho voluto indagare questa cosa ma non intendendo l'ultimo respiro nel senso letterale cioè l'ultimo respiro prima della morte bensì l'ultimo respiro prima che la vita cambi prima che la vita possa fare un movimento di lato e condannarci alla nostra solitudine io potrei parlare e le mie parole potrebbero non arrivarvi o arrivarvi in maniera distorta rispetto a ciò che credete nel loro significato una persona potrebbe agire per il bene di un altro e il ricevente di quest'azione potrebbe non comprendere l'azione il vero significato di essa insomma in questa incomprensione sta l'insolitudine del testo la grande solitudine del testo vi leggo un passo adesso tratto dalla terza parte parla una strega che cucina un pentolone d'oro nel quale si scioglie una pappa dorata ed è una strega che ha sempre vissuto la sua vita d'amore pur essendo rinnegata sostanzialmente sulle colline il minestrone d'oro deve bollire sempre altrimenti l'oro non si cuoce e allora ogni sera d'estate vengo qui e prendo un animula fatta a fuocherello e poi la metto sotto al pentolone sotto gli alari e l'animula sta lì a fare tutto quel caldo piccino piccino dentro la botte di cemento poi il calore colma tutto lo spazio ma adesso ancora presto per portare via questa che ho nel palmo la osservo le chiedo qualcosa ma senza mettere parola che tanto la corrente qui tra i feretti la spingerebbe su oltre regondè e la spenderebbe al filare è l'animula di uno dei bifolchi che mi hanno messo dentro un semino di figlio sebbene quello di quest'uomo io non l'abbia ancora lasciato al mondo sarà stato quello di due mesi fa che pur fesso d'affetti non mancava mai di invitarmi nella sua struttura di caccia metteva sempre quella leggerezza nello slabrare la pelle della lepre che svolare giù dalla ploia era diventato per me quasi come cuocere il minestrone lo vedo qui dentro il fuoco che questo fuoco piccino piccino mi lascia sempre un ricordo il giorno in cui mi disse senza voce che potevo persino piantumare il suo orticello con tutte le crocette per i figli che si erano chiusi nel niente del mio grembo e non erano venuti sulla collina e un poco in quell'occasione avevo pensato ad agnese sebbene agnese l'avessi vista pochissime volete e lui comunque mi faceva sempre questo dono di lasciarmi il patio aperto anche se io svolavo sulla scopa e potevo violarlo come faccio qui con il campo sano e la statua della donna senza i polsi diceva lui nell'unica volta in cui ha messo un sorriso nel mondo gli sembravo io da ragazza ma io non lo sapeva lui non sono mai stata ragazza grazie mille e buona lettura grazie a tutti grazie a tutti